Industria, gli scenari futuri, sostenibilità della raffinazione. L'impegno nella ricerca e nella innovazione sono i valori fondamentali e rinunciabili su cui occorre un'azione coordinata tra l'amministrazione pubblica centrale che individua gli strumenti più idonei e le amministrazioni regionali e locali a servizio di un comparto industriale moderno e vitale. Governare la transizione energetica significa essere attenti ai costi sociali e alla sostenibilità economica. Questo è quello di cui si è discusso ieri pomeriggio nella sede di Confindustria Siracusa, ospiti autorità di primo piano con il Presidente della Regione Nello Musumeci a concludere i lavori del convegno Scenari Futuri e Sostenibilità della raffinazione in Italia e in Sicilia. Il Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona, aprendo i lavori, ha sostenuto che occorre superare le contraddizioni che spesso accompagnano lo sviluppo del nostro territorio, un regime vincolistico che ostacola l'attuazione di importanti investimenti per il miglioramento della sostenibilità ambientale, la percezione di un territorio che non sempre è favorevole a sostenere lo sviluppo di un comparto che continua ad essere strategico per la nostra comunità, la mancanza di segnali chiari a chi vuole investire. Questo è l'accurato appello che gli industriali lanciano al territorio e alla politica. Il Presidente dell'Unione Petrolifera Claudio Spinaci nel corso del suo intervento ha sottolineato il downstream petrolifero che costituisce un settore strategico per l'approvvigionamento e la crescita del Paese. Anche la Nuova Sen e la Commissione Europea ne riconoscono la centralità nella transizione energetica e tendono a scongiurare ogni rischio di deindustrializzazione della filiera. A tal fine è necessario un quadro certo capace di attivare una corretta programmazione degli investimenti e una legislazione chiara e non punitiva. Gli ingenti investimenti già effettuati dal settore hanno consentito ai nostri impianti di produzione e ai nostri prodotti di essere tra i migliori al mondo sotto il profilo ambientale. A Siracusa la raffinazione garantisce oltre 7.500 posti di lavoro stabili tra diretti e indotto e altamente qualificati anche grazie ai 4 miliardi di euro investiti dal 2000 in poi. Oggi con questo convegno Confindustria Siracusa da inizio a una serie di incontri su temi che hanno particolare importanza sullo sviluppo socio-economico del territorio siracusano ma che hanno un denominatore comune che è quello di fare chiarezza su determinati aspetti di questi temi e per questo verranno trattati sempre da personalità che non soltanto rivestono dei ruoli importanti nella società ma anche e soprattutto hanno una competenza ed un'esperienza tale che consenta a tutti noi di avere delle opinioni che non siano frutto di informazioni incomplete se non poco attendibili con il risultato come abbiamo visto nel passato di paralizzare alcuni progetti di sviluppo. Grazie.